Voglia di ristorante alle stelle, dai clienti una botta di ottimismo. Buongiorno, ormai ci siamo. I più ottimisti dicono di attendere ancora due o tre settimane al massimo e anche i più prudenti non vanno oltre i due mesi. In ogni caso ormai è certo, dovrebbe essere solo questione di giorni e poi finalmente potremo allentare molte delle misure più restrittive e che più hanno infastidito i cittadini in tutti questi mesi. Grazie al buon andamento delle vaccinazioni, dove il tandem Draghi-Figliuolo certamente è riuscito laddove Conte e Arcuri si erano invece impantanati e grazie al caldo estivo ci potremmo sedere di nuovo all'interno di bar e ristoranti. Non sarà obbligatorio portare la mascherina, salvo che nei luoghi affollati e ci potremo persino abbracciare. Le aperture parziali dei locali all'aperto hanno segnato il tutto esaurito quasi ovunque, a conferma che gli italiani vogliono tornare a uscire e frequentare i pubblici esercizi per incontrare gli amici, per divertirsi e questo non può che essere positivo per tutte le imprese di questo settore che più di tutti hanno sofferto in questo anno e mezzo di pandemia. A cascata ne beneficeranno anche tutte le decine di migliaia di aziende che lavorano per l'Oreca e che hanno subito da anni pesantissime ristrutturazioni importanti nei mesi scorsi e in più ci sarà un beneficio anche per l'opinione pubblica che oggi all'insegna troppo spesso di nervosismo o ansia. E con l'inizio dell'estate, del turismo, avremo finalmente, vedremo finalmente partire anche quel rinascimento della nostra accoglienza che non potrà essere semplicemente un ritorno alle vecchie abitudini. Non potremmo più permetterci la movida incontrollata che ha portato anche agli scontri recenti con la polizia a Milano, come a Roma o a Napoli, perché questi sono solo fatti che rappresentano il peggiore anticipo di una ripresa che ha bisogno di tutto meno che di un ritorno a un passato di questo genere. Evitare rischi è la parola d'ordine, lasciando perdere tutte le polemiche ormai inutili su orario coprifuoco. Già, perché la sicurezza, almeno fino al prossimo inverno, dovrà essere la nostra regola principale e a maggior ragione dovrà esserlo per ristoratori e baristi che già hanno pagato abbastanza per il pregiudizio e l'incapacità di molti politici che hanno preferito scaricare sui pubblici esercizi la loro inadeguatezza nel contenere la pandemia. Il dato da non dimenticare è che bar e ristoranti potranno finalmente riaprire oggi, ma nel caso di una quarta ondata saranno sicuramente i primi a dover richiudere. E questo perché le occasioni di rischio ci sono ancora tutte, le scuole sono nel disastro di sempre e i trasporti hanno ricevuto pochissime attenzioni, è stato fatto davvero poco in quel settore e per realismo, non possiamo far finta di non sapere che non ci sarebbe Salvini che tenga e in caso di un nuovo boom del covid si tornerebbe alle zone rosse e alle chiusure. Ecco perché i protocolli di sicurezza i distanziamenti, quello che avevamo verificato che funzionava perfettamente l'anno scorso, vanno rispettati con rigore e i gestori devono essere la prima linea per non dover tornare nel caos. Da questo punto di vista il mondo delle accoglienze non deve dimostrare nulla di nuovo, ma deve solo evitare di essere preso a pretesto in caso di nuovi problemi per i contagi. Non dimentichiamo che fra chi vorrebbe riaprire tutto e subito ci sono anche i novax, i negazionisti o le persone contrarie ad indossare la mascherina, a prescindere dall'andamento delle vaccinazioni o dell'indice di contagi. Il mondo dei bar e dei ristoranti non deve cadere in questa trappola, nessun assembramento e il rigore devono essere l'unica parola d'ordine con cui rassicurare la clientela e garantirsi un futuro. Poi basterebbe vedere quello che succede all'estero, a Londra dove i vaccinati sono ormai 53 milioni, dal 17 maggio si potrà tornare nei pub e al ristorante e anche nelle sale interne e gli inglesi potranno tornare ad abbracciarsi, mentre dal 17 giugno si tornerà alla normalità o quasi. E ciò grazie ai controlli rigorosi che da noi invece mancano. Rispetto agli inglesi abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma la rotta è giusta, con buon senso e rispetto delle regole potremo davvero guardare con fiducia al futuro. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.